ciao a tutti benvenuti in questa nuova intervista riunione con un altro componente degli italiani sparsi per il mondo in questo caso qui in perù lui si chiama marco bertocchi è un psicologo life coach ci racconterà della sua del suo arrivo qui in perù della sua esperienza degli suoi anni che sono già cinque anni che vive qui in perù e come sono stati i suoi inizi e a poco a poco scopriremo qualcosa di più sia del perù sia di come il perù accoglie gli italiani e della vita di marco ciao marco benvenuto grazie di essere qui con noi e raccontaci un po del tuo storia raccontaci un po del di come ti ha ricevuto il perù e inizia a presentarti e poi svolgeremo alcune domande alcune informazioni che tu puoi dare gli italiani ciao un piacere salutarti grazie per l'invitazione per questa piccola intervista e sono felice di poter comunicare con te tutti gli italiani che stanno seguendo questo programma io ho tempo perché adesso siamo in una condizione di isolamento sociale quindi stiamo nelle nostre case con la nostra famiglia e possiamo parlare di queste cose mi piacerebbe raccontarti la prima cosa una piccola storia io sono di bologna vivo quali ma diciamo già da cinque anni e succede questo praticamente come 15 anni fa un amico mi dice se io voglio viaggiare a perù e come io già stavo viaggiando in altri posti del sud america viaggiavo in messico in santo domingo in cuba dico no guarda è un posto che a me non mi interessa non voglio nemmeno visitarlo poi succede che vado in una vacanza in santo domingo dove conosco mia moglie che si è peruviana e alla fine decido di visitare il perù di conoscere la sua famiglia ci sposiamo viviamo in italia e alla fine ora sto vivendo qui in perù già da cinque anni la cosa è che l'anno passato praticamente ho ricevuto la cittadinanza peruviana per diritto di matrimonio e quindi il giorno stesso che io ricevo il carnet di identità che sarebbe il dna peruviano la nostra carta di identità italiana praticamente mando una fotografia un amico all'amico che mi aveva invitato al perù gli avevo detto che non sarei venuto e quindi immaginati l'emozione che c'è stata quando gli ho fatto vedere che non solo sono venuto in perù ma ora sono cittadino peruviano perché sono italo peruviano quindi hai un detto qua in sud america che dice che chi non le gusta il caldo se ne vanno a dare due tassi e chiedere sir che se non ti piace il brodo te ne vanno a dare due tassi e questo mi è successo quindi la prima storia che ti voglio raccontare è che mai dire mai perché la vita non si sa mai che quali sono la vueltas che te dà cosa non si sa i giri che ti può dare la vita marco dici i tuoi inizi qui in perù come sono i tuoi inizi lavorativi come ti sei trovato a iniziare il un possibile lavoro hai continuato per lavoro che avevi in italia raccontaci un po' ti racconto un po' come io qual è stato il mio percorso per arrivare qui a lima praticamente sono in italia c'è una vita regolare c'è un'impresa faccio altre cose per un certo momento perdo i miei genitori quindi con la mia famiglia mia sposa e mio figlio tiago che all'epoca aveva quattro anni decidiamo di vivere in lima e quindi veniamo quali ma mia moglie già all'epoca aveva un lavoro già dominava la lingua quindi evidentemente era più facile per lei io quando vengo a lima praticamente la prima cosa che ho fatto è imparare la lingua perché non ci conoscevo lo spagnolo per un tema turistico quindi per potermi muovere per poter fare una vita così da turista però non per fare una vita professionale quindi la prima parte confesso non è stata proprio facile perché uno si deve adattare praticamente a tutto ed è come uno va alla banca di come uno va a fare le spese di come uno va il bagno perché qua ci sono delle regole diverse quindi quando uno impatta con questo mondo completamente diverso effettivamente uno perde un po quell'equilibrio soprattutto emozionale quindi a tutte le persone che vogliono viaggiare all'estero e vivere in un altro paese gli dico di avere un po di pazienza perché i primi sei mesi di adattamento sono un po i più difficili attualmente mi trovo bene qua sto lavorando sto facendo le mie cose però già il fondo lo che vedo la città è uno scenario nella quale io sto facendo le mie cose e quindi che puoi lavorare a lima come in qualsiasi altra città una volta che tu hai un lavoro professionale quindi il suggerimento per le persone che vengono è in ogni caso di venire qua a lima che è un grande mercato perché il perù è un grande mercato però come professionisti di qualcosa quindi sei un elettricista se vuoi lavorare in proprio sei un pizzaiolo però devi lavorare in proprio perché i lavori qua manuali sono molto poco pagati quindi bisogna venire già con una professione come medico come psicologo come professore uno fa ovviamente la revisione dei titoli quindi fa sì che i suoi titoli possono essere validi qua in perù però uno può fare una vita normale una vita felice quando tu sei un professionale se invece uno c'è un lavoro manuale vuole lavorare sotto padrone no non si può fare perché lo stipendio molto basso e quindi avendo uno stipendio molto basso la vita che uno fa non è sicura non è igienica e uno si può avere dei problemi quindi vuoi venire qua lima perù fantastico è un gran paese è una grande opportunità però devi venire già con un progetto e soprattutto con una professione che hai alla mano marco che consigli puoi dare agli italiani che hanno un'idea hanno un pensiero di poter venire a vivere qui in perù una cosa che mi piacerebbe comunicare a tutti quelli che stanno seguendo questo programma che sono gli italiani nel mondo è che noi come italiani a volte abbiamo una visione del mondo bastante italocentrica cioè siamo abituati per la storia di roma per quello che abbiamo vissuto a vedere il mondo partendo dall'italia però quando già uno si sposta in questo continente già il perù l'italia viene visto già in maniera diversa e uno si accorge che realmente il mondo è rotondo e ci sono punti di vista un po diversi quindi più uno si allontana dal proprio paese di origine e più uno capisce quali sono i limiti culturali dell'area in quale praticamente uno è nato siamo tutti d'accordo che l'italia il più bel paese al mondo la cultura italiana la cucina italiana tutto è il paese migliore al mondo dove poter vivere però ci sono altre realtà che si possono conoscere e diciamo che oggi il mondo è globale quindi ci sono molte più opportunità in mercati molto più estesi quindi quando uno viene nel mercato spagnolo sa che ha molte più opportunità di avere successo in un mercato con con molta più popolazione e il perù è un paese grande sono quattro volte l'italia è più o meno come l'italia nel senso che c'è il mare c'è la montagna c'è la parte interna e la unica cosa è che gli italiani conoscono nuovamente del perù solo la parte storica e naturalistica si conosce il maciupiccio che è spettacolare quindi ti dico viene a vederlo perché effettivamente è bellissimo da vedere c'è tutta la parte naturalistica però a parallelo a questo c'è tutta una parte commerciale moderna che in italia non si conosce però lima è una città super viva da un punto di vista commerciale se tu vai in un centro commerciale qualsiasi durante la settimana fai fatica a incontrare un parcheggio libero perché tutte le attività qua sono fiorenti quindi se uno è un impresario e le cose ti vanno bene ti vanno veramente bene perché non solo tu sei il mercato peruviano che è un mercato bastante grande però ci sono tanti altri paesi dove tu puoi raggiungere col tuo prodotto col tuo servizio e li raggiungi come un aereo così come noi andiamo da da milano a catania tu puoi tranquillamente andare a santa cruz bolivia andare in cile andare in argentina e proporre i tuoi servizi sempre con lo stesso formato perché quando sta in lingua spagnola non devi cambiare la presentazione il tuo corso è lo stesso la tua conferenza è la stessa e se hai un prodotto semplicemente il catalogo è lo stesso non lo devi cambiare in italia noi siamo abituati che quando tu prendi un aereo esci dal territorio nazionale in tutti i modi stanno parlando una lingua differente però non è così qua quando tu esci sei praticamente nella stessa regione perché tutti stanno parlando la stessa lingua marco in questo momento la tua attività in questo momento critico per tutto il mondo non solo per il perù come riesce a svolgere la tua attività la stai trasformando come come poi svolgerla stiamo vivendo qua in lima quello che è successo in italia quindi praticamente c'è stato uno tsunami virale noi prima abbiamo visto quello che succedeva in italia mediante le reti sociali pensando che il perù era molto distante che questa cosa non sarebbe successo a noi perché qua c'era il caldo il caldo poteva fermare il virus però o sorpresa ora siamo anche noi in isolamento sociale e tutti stanno guardando l'italia come un esempio diciamo come un esempio da non fare vuol dire di non prendere sotto gamba quello che sta succedendo ora il presidente ha preso una misura di sicurezza stiamo per due settimane in casa e quindi tutte le persone che avevano un'attività che avevano un lavoro dove si dovevano beccare in certi posti ora devono passare al digitale devono riuscire a fare le cose online io come psicologo praticamente si posso lavorare tranquillamente online perché le mie consulenze le sto facendo sto continuando a farle ai miei pazienti e le persone che mi consultano tranquillamente online il coaching tanto come la psicologia clinica è una conversazione quindi la mia metodologia funziona molto bene anche nella parte online certo quello che ho dovuto rinunciare sono state le grandi capacitazioni le grandi conferenze e la settimana prima che arrivasse questa misura io ero in giro ero in particolare a cimbote e nello mismo giorno è realizzato cinque conferenze quindi una conferenza di mille professori o eventi più piccoli e quindi ero molto emozionato perché le cose stavano andando stavano fluendo molto bene però quando ritorno viene prima la primera misura di di eliminare le grandi riunioni pubbliche da 300 persone e poi dopo la misura di stare in casa quindi tutto questo aspetto legato alla formazione ai congressi alle conferenze non ho potuto fare e non lo posso fare attualmente ed è tra l'altro la parte che più mi piace di quello che sto facendo perché ho la possibilità di arrivare a molte più persone quando tu fai una sessione individuale certo sta aiutando una persona però se tu vai in un congresso o se stai capacitando 20 persone l'impatto che puoi avere per aiutare gli altri è un po più alto quindi niente facciamo quello che sto leggendo che mi è piaciuto molto che dice che i pescatori quando non possono andare nel mare aggiustano le reti quindi io sto facendo in questo caso aggiustando le reti proprio oggi non sono già reti fisiche se no sono le reti digitali quindi stiamo lavorando per migliorare la nostra proposta online quindi nel sito web o altre cose di questo tipo e preparando corsi preparandomi per quando praticamente potrò uscire di nuovo nel mare e poter capacitare in congressi o conferenze ok ti ringraziamo di essere stato con noi di aver spiegato agli italiani la tua vita e i consigli per un possibile trasferimento in perù ovviamente passeremo il link dei tuoi prodotti dei tuoi libri online e ti salutiamo a presto e ovviamente tutti gli italiani che hanno interesse a comunicarsi con marco possono comunicarsi con noi con gli italiani in perù e noi li faremo da passaparola a marco a presto bene quindi grazie per per la possibilità di parlare un po ai nostri fratelli che sono in tutto il mondo perché gli italiani veramente sono in tutto il mondo io ti dico che se vuoi puoi seguirmi direttamente nelle mie reti sociali o c'è un facebook in particolare che si chiama marco bettocchi psicologo life coach in questo facebook tu mi puoi contattare chiedere informazioni che posso mandare in digitale questo libro perché già in fisico non ce l'ho più e ti posso dare adesso presto le indicazioni per conseguire questo in amazon entrambi sono in spagnolo perché non lo sto realizzando per un mercato italiano perché non sto andando in italia promuoverlo facendo queste attività però mi puoi trovare tambien in instagram e quindi mi puoi comunicare quello che posso fare per te se hai bisogno di venire quali ma di venire perù io conosco il perù abbastanza molto bene perché praticamente viaggio per lavoro quindi le mie conferenze sono in tutto il territorio nazionale è una cosa che è diversa con rispetto all'italia in perù ogni parte del perù c'è un clima diverso quindi a pensare che ora siamo in estate ci sono posti dove in inverno dove sta piovendo dove ci sono problematiche diverse perché abbiamo la selva quindi il perù è un paese che bisogna conoscerlo bene per potersi muovere tanto per un tema sanitario tanto per un tema di sicurezza personale o per quello che tu puoi incontrare nei vari posti quindi sono qua felice di poter compartire quello che ho potuto conoscere quello che è la mia esperienza qua vivendo cinque anni nel perù però già ora conosco il perù a parte che sono peruviano più dei peruviani stessi perché sto viaggiando molto quando non tutti possono viaggiare la stessa lima quando io ero fuori da lima non la capivo però mi diceva mia moglie vanno in questo distretto piuttosto che in un altro quindi vanno in questo quartiere piuttosto che in un altro io questo non l'avevo capito però lima è come se fossero dieci città insieme come se fosse bologna parma modena milano perché perché in ogni distritto ci sono regole completamente diverse e quello che vedi è completamente diverso c'è un distritto che è miraflore dove ci sono grattacieli ci sono grandi hotel cinque stelle e c'è un distritto vicino che sembra più come firenze dove c'è una vita più bohemia ci sono i cantanti ci sono i poeti ci sono gli scrittori quindi ogni parte di lima è completamente diversa ci sono delle regole diverse in termini economici in termini di sicurità di sicurezza quindi se ha interesse a venire quali ma io posso darti tutte le informazioni che vuoi semplicemente mi scrivi nei miei reti sociali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti